Gianluca Vialli, ciao, benvenuto. Ciao Gianluca, benvenuto. Allora, squadre da incubo, questa sera c'è la seconda puntata alle 21.15 su TV8, canale 8 del digitale terrestre 121 del telecomando di Sky. Gianluca, quanto sono da incubo queste squadre? Sono parecchio da incubo, sono sicuramente squadre che avevano bisogno di un intervento perché c'era molta passione, molto entusiasmo ma anche tanta confusione e superficialità e quindi noi sentivamo il bisogno di andare e condividere le nostre conoscenze, la nostra esperienza e cercare di mettere un po' di ordine con tutta quella confusione. In una squadra, qualunque essa sia, al di là dello sport, anche una squadra di lavoro in fondo, qual è la primissima cosa che bisogna guardare? Per farla funzionare? Per farla funzionare bisogna condividere lo stesso obiettivo e quindi deve essere un lavoro, bisogna tutti remare nella stessa direzione. Poi aggiungerei che bisogna avere complementarità di abilità, quindi se tu sai fare una cosa io non devo saper fare un'altra e tutti insieme poi è. E la terza cosa, senso di responsabilità e questa è una cosa che molto spesso viene dimenticata. Senti, raccontaci questa cosa, perché a me ha fatto impazzire il tuo periodo al Chelsea quando tu giocavi e allenavi contemporaneamente, perché tu hai potuto vedere gli errori che ci sono all'interno di un gruppo che magari non rispetta il capo come dovrebbe, ma anche gli errori del capo che non ascolta le lamentele o le esigenze delle persone che lo devono seguire. Infatti no, è stata un'esperienza utilissima che non consiglierei però perché mi ha veramente prosciugato, esatto, poi cambi e un giorno non ti svegli e dici ma io che cosa faccio? È un po' come quando immagino, fai un film e il regista, oltre che essere regista, è anche attore principale, quindi però è fondamentale perché ti permette, come dicevi tu Erina, di testare un po' quella che è la tua strategia, quindi le cose che tu pensi che funzionino hai veramente l'oportunità, siccome le provi su te stesso e sul resto del gruppo per capire se funziona. Però il vantaggio è che i giocatori, i tuoi compagni non ti mandano a quel paese perché hanno poi paura che tu non ti faccia i giocatori. Però devo dire che gli errori forse si pagano ancora di più a quel punto perché gli altri te li fanno notare, come a tu a noi dici questo e poi tu sei il primo a commetterlo. E infatti si dice sempre non fare quello che faccio ma fai quello che dico e quindi sì, però siccome la tua reputazione di allenatore è anche quella nelle tue mani, quando giochi corri molto. Io credo che sia veramente difficile, quindi il complimento è anche perché i risultati ci sono stati e di conseguenza. A proposito della tua esperienza sempre all'estero, l'aver vissuto all'estero, poi tua moglie è inglese, vero? Sudafricana di origine, però è britannico ormai ai 40 anni che è a Londra, quindi sì. Ti ha fatto vedere l'Italia in un altro modo, vista un po' da lontano? Devo dire che io vivo a Londra da più di vent'anni e per parecchio tempo non ho sentito la mancanza dell'Italia, anzi ero felice di vivere in un paese, a mio parere, civile e quindi... Stiamo piangendo, eh? No, lo so, detto questo, l'Italia è fantastica, se vieni in vacanza, perché il cibo, la cultura, insomma il clima, le donne belle, tutti quanti sono sempre molto fighi, eleganti in Italia, però per vivere e per lavorare io direi che forse a Londra si sta meglio. Ma siamo già più... Anche se costa carissima, eh, scusate. Siamo ancora incivili o siamo un pochino più civili? No, 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 non volevo dire che l'Italia... No, lo so. Però l'Inghilterra, forse sai, quando hai un politico che quando, insomma, fa una sciocchezza si dimette e chiede pure scusa e poi io sono un esportivo professionista e lì, quando parli di sport, dal cricket al golf alla Formula 1 al tennis Wimbledon, quindi mi sento veramente un uomo fortunato. E questo vale anche per gli artisti in generale, per esempio, che sono considerati anche un altro modo e molto più difesi. Allora, a proposito di sport, uno sport dove tu sei preparatissimo e tutti conoscono il golf, giusto? Tu giochi a golf, io l'ho scoperto recentemente, ma sei bravo? Beh, ho iniziato nel 96 e dicevo già che ho speso talmente soldi in lezioni che dovrei essere un professionista. Ma ho scoperto che non servono a tanto le lezioni, serve giocare. Le lezioni possono aiutare ma confondono. Bravo! Ed è una cosa quindi che deve essere gestita bene, però gioco sì, gioco molto. Vuoi dire a tutti che non è uno sport da ricchi, ma è uno sport che funziona, che ti fa vivere? No, perché io lo amo molto perché non sono uno che cora. Allora, facciamo un po' di pubblicità giustamente. Allora, è lo sport più competitivo che ci sia. È indubbio perché competi con te stesso, con l'avversario e con il campo che è costruito in modo tale da metterti in pressione. Poi cammini per più di sette chilometri, quindi bruci calorie, sei in paradisi terrestri, alcuni naturali e altri costruiti dall'uomo. Puoi fare due chiacchiere, puoi fare del business anche sui campi da golf con... E poi c'è la possibilità di migliorare, anche a una certa età, hai un obiettivo e lo puoi perseguire. Dopo quello che hai detto, adesso mi dedicherò anche al calcio che ho sempre lasciato perdere, ma a questo punto... Grazie, grazie davvero Gianluca Vialli. Grazie, mi raccomando.